Giochiamo a scoprire qual è il lifestyle dei personaggi eccellenti? Cominciamo con Vladimir Luxuria, Foggiana Doc, che abbiamo incontrato in occasione del suo arrivo a Bari per presentare l'ultimo spettacolo Sisdrai, per favore. Qual è lo stile di Vladimir Luxuria, sia, pensavo, lato fashion, ma anche come stile di vita in generale? Qual è lo stile, se c'è una definizione? Fashion no, perché non sono particolarmente ossessionata dalle firme, metto cose che mi regalano, metto cose che mi piacciono, poi ci sono anche degli stilisti che mi regalano delle cose, quindi il mio stile credo sia preoccuparsi di farsi capire dagli altri, uno stile abbastanza naturale. A volte ci sono delle persone che un po' esagerano nei movimenti, nel parlare, io cerco sempre di essere abbastanza nature, quindi ecco, forse il mio stile è la naturalezza, sono naturale, sono un prodotto naturale, sono come una burrata, naturale, fresca, buona, genuina, sono una burrata. Grazie moltissimo.